non è andata in onda vai amore praticamente vediamo se si chiorda adesso blocchiamo tutta la redazione di uomini e donne eeeeh io durante un centro studio con esterna lei mi chiese il dolce mio preferito E poi non ricordo che è esterno, forse quella del tennis Può essere E una mattina in albergo mi venirono a bussare in camera Io pensando fossero le donne delle polizie Dissi no grazie E in realtà poi scopri che c'erano tutti i cameraman Lei che mi fece questa sorpresa Io aprì la porta in mutande, infastidito pure Oh madonna che nervi, quel mattino volevo andare via E mi fece questa sorpresa E mi portò a questo vassoio pieno di piccoli babà No dell'esterna mai andata in onda Vai amore Praticamente Adesso blocchiamo tutta la redazione di uomini e donne Io durante un centro studio con esterna Lei mi chiese il dolce mio preferito E poi non ricordo che è esterna, forse quella del tennis Può essere E una mattina in albergo mi venirono a bussare in camera Io pensando fossero le donne delle polizie Dissi no grazie E in realtà poi scopri che c'erano tutti i cameraman Lei che mi fece questa sorpresa Io aprì la porta in mutande, infastidito pure Oh madonna che nervi, quel mattino volevo andare via E mi fece questa sorpresa E mi portò a questo vassoio pieno di piccoli babà E mi pare E mi pare E mi pare